è la sensazione di benessere che si prova il lunedì di un bridge, di un ponte the father of the bridges, quella che domani non si lavora no? venendo poi da un weekend, è obiettivamente è stata è quella proprio che dà buon amore, quella che ti fa un po' rilassare dopo tanti mesi a snazzicare, a correre come un po' un crescento talvolta e allora il buon amore porta a fare la pocherata con gli amici porta a non essere andati a lavoro oggi, può essere scendati a piccolo trotto oppure essersi con tutti i po' di più family, amici, genitori, a fare l'albero, a fare quello che ti pare è un po' una giornata medium off, è un po' una giornata simium stand by e allora il buon amore da quello da cui si deve ripartire è fondamentale, è come una cazzone col volume alto oppure... grazie! grazie!